ricevo tante segnalazioni da parte dei cittadini e sono davvero contento sono stato io stesso a dirvi di inviarmi appunto immagini quindi video foto attraverso le quali rappresentare la situazione le situazioni di degrado di criticità che davvero affliggono la cittadinanza oggi voglio farvi vedere delle immagini di via salvemini al quartiere paolo sesto sono immagini che sono state riprese girate da un bus di chima mobilità amat beh questo ci fa capire tante cose un manto stradale che sembra un percorso di guerra che sembra sia stato davvero bombardato e immagino i rischi plurimi che ci sono i rischi per i pedoni che attraversano che camminano per gli automobilisti ma penso ai rischi che vi sono per i per chi sta sul bus perché chiaramente il corpo la schiena in modo particolare di chi è magari in piedi sul bus so balza penso soprattutto agli anziani si rischia di cadere ogni qual volta il bus si imbatte in qualche buca in qualche sprofondamento penso ai rischi anche per la schiena degli autisti stare seduti e so balzare non è cosa molto ma molto piacevole e ancora i rischi per i mezzi dell'amat sono stati acquistati mezzi nuovi e poi che facciamo li mandiamo su strade dissestate per farli distruggere mi sembrerebbe davvero una follia quindi una serie di rischi vari ma non si tratta di rischi si tratta proprio di danni effettivi che si sono creati e che continuano a crearsi ma questa di via salvemini e al quartiere paolo sesto è semplificativa perché ci sono altre criticità cito alcune strade frutto delle segnalazioni dei cittadini a paolo sesto abbiamo corso buozzi viale 2 giugno via 4 novembre viale del lavoro viale del turismo quartiere tamburi via di amicis lama zona battaglia circonvallazione dei fiori via lama e ancora talzano corso vittorio emanuele via michelangelo via cavalcanti via domenico savino ma ho voluto solo citare alcuni esempi giusto per ma io mi domando queste strade non meritano una priorità assoluta negli interventi di rifacimento incredibile vengono rifatte strade che stanno maluccio ma non malissimo come queste e su queste strade cala il silenzio è calato il silenzio con l'assessore parlo di assessore ai lavori pubblici che ci sono che si sono succeduti l'assessore ai lavori pubblici mattia giorno e poi ciraci fino a qualche giorno in ca fino a qualche giorno fa in carica mimmo ciraci e ora vedremo cosa farà fabrizio manzulli nominato da 12 giorni assessore ai lavori pubblici certo è che qui davvero si rischia si rischia tanto rischiano i pedoni ripeto chi sta sul bus rischiano i mezzi dei mezzi stessi dell'amat ma cos'è questa una città del terzo mondo ma cosa sono queste strade sono dei tratturi non so più cosa dire percorsi di guerra sembrano strade attinte da bombardamenti sembra quasi la striscia di gaza passatemi l'espressione forse un po esagerata ma dico la verità mettiamoci nei panni di chi a causa di queste gravissime negligenze riporta seri seri danni fisici